Scusa eh, cosa devo fare? È il mio posto di prendere l'occhio. Sono arrivate tutte in diretta e casate del Viagra adesso. Alla fine lo sai che se c'è una lotta... Sì, sì, te ti hanno già inquadrato stasera, te sei già a posto. Ho già visto come finisce la serata. E' eccezionale, la donna splendida, intelligentissima, un'ironia. Scusa, dici che devi fare un ciclo. Ma no, ciclo non lo faccio. Io lo do subito. Quando fossero così con i denti, mi erano spavista. Che cazzo? All'ombra, strima, puro... Tò? Mamma mia. Cazzo. non riesco a trovare perché io non sono collegata in adesso provate che so fare bene la bambina grazie